Se il mondo andasse al contrario senza la civiltà del consumo che porta al consumo della civiltà avremmo la libertà del popolo mi sa, non il popolo della libertà un mondo in cui ogni conto torna non il torna conto un contropotere senza potere contro non danno ascolto al consiglio del presidente e il presidente del consiglio mai sarebbe Silvio la gente messa a parte di informazioni, non informazioni di parte un mondo che riparte, un mondo per chi osa noi che senza cosa nostra facciamo la nostra cosa con la testa per i soldi più che i soldi per la testa lo fai a tempo perso, hai perso tempo pensa, con la tua cazzo di testa, o sei una testa di cazzo devi farlo per forza, sei forza per farlo ehi, cosa succede in città? la gente non si rende conto della realtà con me che ogni cosa che a sto mondo non va nei miei pensieri all'incontrario va ho senso che fa girare il mondo al contrario il mondo inverte il suo asse tutto andrà all'inverso io le rime per invertire il processo se il mondo andasse al contrario ogni serata farei saltare la gente a certa gente farei saltare la serata voglio azione, festa, mani come ad una manifestazione do tutto per la causa, c'è una causa per tutto perciò anche se l'hip hop è scena io lo faccio per la scena in pop mista l'amore a prima vista non ti ho mai vista prima amore ya, vuoi farmi l'intervista? non sono un bravo ragazzo, sono un ragazzo bravo non ho sparo, sparate, se mi sparate sparo sono il capo dei capi e non vesto i capi del capo salgo e non vado piano, chiedimi a che piano vado ehi, cosa succede in città? la gente non si rende conto della realtà com'è che ogni cosa che a sto mondo non va? nei miei pensieri all'incontrario va ho lo senso che fa girare il mondo al contrario il mondo inverte il suo asse tutto andrà all'inverso se non andasse al contrario ognuno potrebbe stare bene senza avere bene stare di qualcuno col piacere di vivere senza vivere di piacere al confine tra morire di voglia e voglia di morire o morire di paura per paura di morire dando un fine alla paura per paura della fine è così che la politica del controllo si giustifica serve un controllo della politica parlo schietto e non mento parla un'altra lingua chi sta in parla mento, parfa, manca il concetto di lavoro nel lavoro di concetto che fan loro fanculo ehi, cosa succede in città? la gente non si rende conto della realtà com'è che ogni cosa che a sto mondo non va? nei miei pensieri all'incontrario va ho lo senso che fa girare il mondo al contrario il mondo inverte il suo asse tutto andrà all'inverso io ho le rime per invertire il processo 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 buo 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 Grazie a tutti